Ed eccoci qua amici di Live Social, Radio News 24 non si ferma, continuiamo con le nostre interviste e storie dal salotto radiofonico che ormai conoscete bene. Ecco, questa sera abbiamo l'opportunità di chiacchierare con una psicologa, do il benvenuto alla dottoressa Antonella Consoli. Ciao Antonella! Ciao, ciao a tutti, sì io sono appunto come dicevi, sono psicologa e sono anche counselor e a proposito dell'argomento di oggi sono anche moon mothers, quindi sì. Un profilo assolutamente particolare, ecco ma come è nata la scelta insomma di seguire questo percorso professionale che tra l'altro richiede una certa vocazione? Allora, la scelta iniziale in realtà è iniziata molto presto, avevo 16 anni quando ho cominciato ad appassionarmi proprio alle tematiche psicologiche anche in seguito a dei sogni particolari che facevo inizio ad avvicinarmi alla psicologia. E poi alla questione del femminile, della psicologia femminile, alla questione delle donne, della spiritualità femminile è un qualcosa che è stato in qualche modo sempre dentro di me e quindi poi i miei studi, la mia formazione, la mia professione mi hanno dato il modo di manifestare all'esterno qualcosa che comunque io già sentivo da sempre dentro. Certo. Ecco, intanto cosa significa essere una moon mother? Di cosa ti occupi? Io so che ti occupi di ciclicità al femminile, ma cosa vuol dire? Sì, allora, mi occupo di femminile e quindi anche di ciclicità e di ciclo mestruale. Sì, allora.